Il metti nel mio titolo, metti una sera a cena, sta per supponi che, tutti mi hanno chiesto che vuol dire, supponi che una sera a cena eccetera eccetera. Giuseppe Patroni Griffi scomparso nel 2015 in un documentario che ripercorre il suo stile, il suo cinema, il suo teatro attraverso i testimoni di quella Napoli indimenticabile. Come si sviluppa questa indagine su Patroni Griffi? In realtà noi abbiamo la fortuna di avere nel team, nella produzione, Giuseppe Patroni Griffi, il pronipote dell'autore. Noi abbiamo fatto un percorso di due anni, siamo andati alla ricerca di tutti i suoi testi, di tutti i suoi documenti, del suo cinema, del suo teatro. Il problema di Patroni Griffi è che è un autore completamente trasversale, ha attraversato tutti i linguaggi che poteva fare. Un ricordo di Patroni Griffi, lei che ha lavorato con lui in teatro? Beh non esageriamo, lui ha lavorato sul serio tutta la vita in teatro, io ho fatto qualche esperimento giovanile. Quando io più o meno avevo 18 anni e lui ne aveva un po' più di me. C'ho a casa incorniciata la locandina dello spettacolo che mise in scena al Teatro delle Palme. Qual era il titolo? Era la casa sull'acqua di Ugo Betti, poi c'è stato il grande esodo verso Roma, suo di Franco Rosi, di Duda Capri eccetera. E ormai i testi molli ce l'abbiamo solo io e Dudu. Com'era bella Napolo 40 anni fa, avvolta nell'azzurro dell'oscuramento, misteriosa. Grazie. Grazie. Grazie.